Sono 744 i cantieri edili ispezionati nel primo semestre 2019 dalla ASL Toscana Centro che ha emesso 182 prescrizioni. Lo rende noto la stessa azienda sanitaria dopo che nei giorni scorsi un operaio di 27 anni è morto per un infortunio sul lavoro a Castelfiorentino. Nel 2018, spiega una nota, nel territorio della ASL Toscana Centro, Empoli, Firenze, Pistoglio e Prato sono stati ispezionati 1134 cantieri edili, emessi 323 verbali di prescrizione mentre le imprese verificate per rischi lavorativi sono state 1864 con 4 sequestri. L'infortunio mortale avvenuto lo scorso giovedì a Castelfiorentino, sottolinea la ASL, ha suscitato anche negli operatori intervenuti grande sconcerto e dispiacere vista la grande attenzione che viene rivolta nell'esame dei piani di lavoro che riguardano le rimozioni di coperture contenenti amianto. Gli interventi su coperture non portanti, quali ad esempio manutenzione, rimozione o anche semplice controllo del loro stato, sono infatti notoriamente operazioni ad elevato rischio e occasione di infortuni spesso gravi, se non mortali, per sfondamento della copertura e conseguente caduta dall'alto. Nonostante i numerosi controlli sul territorio, nel primo semestre del 2019 solo nell'area impolese 146, questo tipo di attività spesso sfugge facilmente proprio in considerazione dell'assenza di comunicazioni e della brevità dei lavori da fare. Occorre quindi maggiore responsabilità da parte di chi affida i lavori e di chi li compie.